Stasera per noi è stata una vera festa perché questo trio era nell'aria da diversi mesi, poi le note vicissitudini ce l'hanno prima stoppato, miracolosamente all'ultimo momento Enrico Moccia se ne è venuto con questa opportunità. Questi sono due maestri straordinari, è così ispirante suonare con loro. Diciamo che a volte possiamo suonare anche senza dirci nulla, senza parlare. Oggi abbiamo fatto una prima assoluta e insomma ci sono tutti i presupposti per fare un grande lavoro secondo me. It's Sabina Musica